Queen Victoria, ripetizioni d'inglese per ragazzi di scuole medie e superiori anche via Skype, traduzioni professionali inglese-italiano, italiano-inglese e altre lingue, servizi linguistici per la scuola e per l'azienda. Io credo che la vera sfida sia la creazione di questa zona franca adoganale accompagnata dall'introduzione appunto di particolari agevolazioni fiscali. Questa non è un'utopia ma questo è quanto prevede il Trattato di Lisbona, secondo cui il Consiglio europeo per le zone insulari e di piccole dimensioni può decidere di varare alcune particolari previsioni in tema doganale e in tema anche di fiscalità. Questo cosa può comportare per l'Elba? Può comportare il rilancio delle imprese già esistenti, può comportare l'arrivo di nuovi investimenti e quindi la creazione di nuove imprese, insomma il tanto auspicato e aspettato rilancio del nostro contesto insulare. Il passaggio che dobbiamo condividere tutti e vedo lo stanno già facendo l'associazione industriale, le associazioni di categoria e chi sta rimettendo mano a questo progetto, a che l'Elba possa essere zona tax free, come si dice molto più semplicemente, cioè spingere tutti assieme perché questo obiettivo possa essere raggiunto. In particolar modo le amministrazioni locali, i comuni e i bani, devono deliberare in tal senso e la conferenza di sindaci si deve fare portatrice di questa istanza verso la regione toscana che dovrà poi agire nei confronti di governo e comunità europea. Quali sono i tempi però per avere questa opportunità? I tempi diciamo uno stretto giro di posta perché le nuove tariffe doganali saranno approvate dalla comunità europea entro il 30 giugno, quindi questo ci deve spingere ad accelerare il tutto e a provare a vedere di realizzare questa svolta per l'isola d'Elba.